No, no, ti sentivo. Comunque lui mi ha invitato perché dice guarda parliamo un attimo della biodisponibilità. Ecco perché quando si parla di queste formulazioni mi ha detto cosa hanno di particolare? Molto spesso ci chiedono, no? Cosa hanno di particolare? Ci siamo? Sì. E quando si va a vedere una formulazione, quello detto anche oggi dalla scuola anti-aging e soprattutto nei preparati fitoterapici o nutrasceutici, ciò che conta è quanto ne arriva realmente del principio attivo a livello cellulare, cosa che molto spesso non viene tenuta conto. Anche se poi invece ci ricordiamo che all'università ce l'hanno insegnato, farmacologia parlava di cinetica, di biodisponibilità, quindi hanno avuto, sì, questo va davanti, e ci ricordiamo che appunto si intende proprio la quantità di farmaco, però avete visto o di nutrasceutico o di nutrasceutico, che realmente arriva alla circolazione sistemica per andare a livello cellulare. Attenzione. Poi non è detto che arrivi nella cellula, anche questo è un colpo di scena, cioè nel senso, ci arriva nel sangue, nel plasma, ma non è detto che arrivi nella cellula, lì c'è un altro tipo di discorso, pensate quanti ostacoli fa questa sostanza per... E vedete che classicamente, ecco, abbiamo tutto questo, no? Che c'è la via endovenosa, l'intramuscolo, l'orale, vedete come queste, che sono dette aree sotto la curva, rappresentano la concentrazione che in qualche maniera il pattern di concentrazione a livello plasmatico che poi va a esaurirsi, via via che... E' chiaro che l'orale, non sono proprio così, l'orale anzi è più bassa ma anche più lunga molto spesso, no? In funzione della... Però ecco, poi un'altra importanza, quando facciamo questa considerazione e diamo preparato, occorre anche tenere conto della somministrazione ripetuta durante il giorno, perché per molti preparati in cui non ci sia per esempio una formulazione in ritardo, è importante che nel sangue ci sia un'adeguata concentrazione sempre, ecco perché per esempio un errore tipico che si fa nella vitamina C, se voi andate a vedere i valori della cinetica della vitamina C, voi le guardate e dite, ma qui mi dicono i lavori che più di 230-250 mg non si assorbe, in condizioni normali, giusto? Anche la compressa, pur magari essendo idrosolubile e tranquillamente anche data effervescente. Allora se io vado a un farmacista e dico, scusami, puoi dare la vitamina C, 1000 mg? Il collega di farmacista deve dirmi, spezzala in 4 pezzetti e prendila ogni 6 ore, 5-6 ore, a meno che se non ha una formula retard. Questo è importante, cioè garantire, perché se no tu non hai la concentrazione, la vitamina C per esempio, oltre 250 mg, quei mg in più vanno perduti con le urine, quindi acqua fresca di fatto. Acqua fresca sono anche tanti altri preparati, per esempio, proprio ieri parlavo con un caso di una B12, la cianacopalamina mi diceva, ma sai che ho stato un bel dosaggio, sto prendendo 1000 mg, e ho detto, sì ho capito, ma il fattore intristico di clestol a livello gastrico ha una certa recettività, se vai oltre quello il resto è acqua fresca, non ti passa. Cioè, no, mi devo fare? E altre vie. Cioè, la via orale molto spesso limita molto in questo senso. E allora, vedete, è comoda, è semplice, non sempre la gente la gradisce comunque, cioè tu credi che odiano le compresse, odiano le capsule, non vogliono ingoiare, per esempio, no? È facile perché si può intervenire in caso di errore, cioè tu non hai fatto un'iniezione, ci ho sbagliato, vabbè, in qualche maniera si fa una lavanda o qualche cosa, lo butti fuori. Cosa ben facile, difficile quando invece fai altri tipi di somministrazioni. Utile, molto utile nelle terapie di tipo protratto, quindi di tipo cronico, un antipertensivo, eccetera, eccetera, malattie cardiovascolari, quello va benissimo. Tuttavia, vedete, non si adatta per farmaci che sono distrutti molto spesso dalla città gastrica o dagli enzimi digestivi. Si fa anche l'esempio classico di molte sostanze, per esempio dice, lo yogurt fa bene, alimento funzionale, sì, ma quante ne arriva di quei batteri realmente all'intestino? Quante ne arrivano? Tu c'è la barriera gastrica, ma le fa fuori tutti, cioè stanno mettendo da punto i batteri gastroresistenti, perché se no quante ne arrivano realmente? Poi, assolutamente molto variabile. Oggi c'è anche questo problema dovuto, per esempio, ai preparati bioequivalenti, cioè i famosi, quando scade il brevetto, c'è un amico farmacista e mi dice, guarda che questi bioequivalenti bisogna vedere chi li fa e chi li distribuisce, perché molto spesso siamo andati a vedere che non c'è la stessa risposta terapeutica, è un problema, cioè prima tutto bene, si hanno messe le grosse ditte, ora le fanno un po' tutti, capito? Quindi, e poi assorbimento variabile, certo, primo passaggio epatico, e quindi lì non scappi, c'è stata una riduzione dell'effetto, inadatta per i soggetti non conferanti, come vedete, o che vomitano, come non indicata, quelle si vuole un effetto immediato. E allora eccoci, la sublinguale spray. Questa è una delle cose che mi ha attirato di questi preparati, quando io, cioè, io per mia natura, chi mi conosce, alcuni in sala qui mi conoscono, ma io agli anni siamo diventati amici con molti colleghi, è anche bello questo, cioè di condividere insieme anche esperienze, diciamo, ci troviamo, è anche un'occasione per vederci, per scambiarci scientificamente, stimolarci a vicenda. Però, ecco, attenzione, in questo caso la sublinguale spray, perché ha una particolarità? Perché ha un passaggio diretto che evita il filtro epatico, questa maglia, questa rete sublinguale che diventa proprio, e quell'altro, dove passano? Va direttamente nelle vene reflui da parte della lingua, che poi sono, confluiscono in qualche maniera nella famosa vena cava superiore, che si infila nel latio destro. E quindi è immediata. L'effetto è decisamente immediato. Basta ricordarsi la famosa trinitrina, la nitroglicerina, che era usata nell'angina pectoris, che adesso è anche superata in qualche maniera, perché... Poi è utile anche per l'autosomministrazione. E poi la personalizzazione della dose è quando ci abbiamo, appunto, per esempio, gli spray. Dice, quanto ne faccio? Tre erogazioni, sei erogazioni, cinque, sette. Quindi, svantaggi. Molto rara irritazione della mucosa. Allora, quando dice, ma perché si parla di sospensione colloidale, soluzione colloidale? Guardate, tutto questo dipende sempre dalle particelle. Cioè, cos'è il colloide? Cioè, io lo voglio ricordare, perché sicuramente tanti di voi, però il colloidale, l'effetto dice, perché cos'è il colloide? Allora, noi abbiamo una soluzione. Acqua, metto il sale nell'acqua bollente. Sciolto subito. Ci metto la terra. La terra non è solubile, vedrai, sono silicati. Cioè, io vedo l'arena che poi, no, mi sedimenta. Quello, in questo caso, è una sospensione. Ecco, il colloide è quando c'è la via intermedia. Cioè, le dimensioni delle particelle sono tali che sarebbero grandi, tuttavia, per caratteristiche elettrostatiche, riescano a stare in soluzione. Oppure io posso favorire il modo di stare in soluzione. Per esempio, aggiungendo delle sostanze che favoriscono anche. Per esempio, a livello micellare, nel caso fossero lipidi. E allora, quando si vede questo, dice, mi dicono che i self-food preparati hanno un potenziale Z. Per farvi capire, a volte, allora sono andato a cercarmelo, questo potenziale Z. E ho dovuto rivedere i famosi appunti tecnologia farmaceutica. Cioè, cos'è il potenziale Z? Guardate, lo vedete? Questa è una particella carica. Una particella in sospensione è caricata positivamente. Tu dici, vabbè, e se ne incontra un'altra? Ecco, attenzione, questo è importante. Se ne incontra un'altra, tu dici, vabbè, se incontro una mia sigla, anche lei è caricata, giusto? Dovrei respingermi, secondo una legge elettrostatica. Tuttavia, attenzione, c'è un punto in quale dice, se vengo troppo vicino, non ho più invece una attrazione, una repulsione, quindi una stabilizzazione della sospensione. Ma anzi, ho un'attrazione, quando supero queste forze repulsive, si forma un precipitato, in pratica. Quindi questa linea famosa, questo strato, vedete? Questo è il potenziale Z. Che dice, stiamo a sufficiente distanza per interagire, senza coagulare insieme, però stiamo sospese. Cioè, non stai, però io ti tengo a distanza sufficiente in modo che la sospensione è stabile. Questo significa potenza, quindi vuol dire alto potenziale Z, vuol dire sospensione colloidale stabilizzata. Questo è frutto di tecnologia farmaceutica. Ecco, io qui l'ho messo. Bisogna superare, quella forza si chiamano Van der Waals. Le deboli forze. Che poi guardate, deboli per modo di dire, perché se ci pensate, certe sostanze, forze deboli forze, sono solide. Pensate allo iodio. Cioè, se voi, una cosa che a chimica sempre fregano, dice, spiegami perché lo iodio è solido. Mi ricordava questa domanda di un professore chimico che ha avuto. E quelli cascavano sempre. Dicevano, ma perché non dovrebbe essere? Pensaci un attimo. Ma solo le Van der Waals lo tengono insieme. Milioni di Van der Waals che fanno una coesione. Quindi è tutto quello di superare le forze van der Waals. Ma le van der Waals tengono anche la materia vivente. Perché nel ripiegamento delle proteine, abbiamo le gamma idrogeno, ma ci abbiamo, sì, certo, anche i ponti, idrogeno, tutto quello che vuoi, ma ci abbiamo anche i legami deboli. E proprio quelli fanno accartocciare sia il DNA che le proteine. E le stabilizzano. Dicevano, ma come fanno a stabilizzare? Sono deboli. Sì, ma sono migliaia di ripiegamenti. E cioè, l'unione fa la forza. Se tutti noi siamo deboli, ma ci mettiamo insieme, schiacciamo anche un fusto grosso, come potrebbe essersi di bestestallone. Cioè, no? Se tutti insieme ci mettiamo, sicuramente lo facciamo. E allora eccoci la biodisponibilità. Cioè, sicuramente tu dirai, chi c'è in cima? Quella endovenosa. Non c'è alcun dubbio. Ma dopo c'è l'intraorale. E sapete chi è questa? Per esempio, la vitamina C intraorale spray. Mi dicono, come mai intraorale? Perché è proprio stata fatta per spruzzarla anche nella mucosa. È molto comoda. Io l'ho spruzzata addirittura al gatto. Non è stato facile. Ve lo dico, cioè, c'era... Ma a me il chimio lo teneva fermo. E l'ho spruzzata dentro. Con un effetto similcortisonico. Ma insomma ce l'ho fatta. Però tutto sommato poi, vedo che la... Ha detto, quasi quasi. Poi quando ha chiesto il nome ho detto, guarda che se fuda... Ah vabbè, c'è buona come... Poi dopo c'è la sublinguale liquida. E questa... Poi e tutte le altre. Vedete che quella però classica, pill, intesa come capsula, o complessa, è in fondo. Cioè, in pratica, quando si fanno questi dosaggi, c'è chi mi ha detto, ma scusa un attimo, una domanda una volta che ci fece una studentessa intelligente. Io vedo qui, negli antibiotici, una... Vedo una mic, concentrazione di 20, di 100 mg. Perché mi danno 500 mg di ampicillina? Giustamente. E ho detto, chiedetelo un po'. La biodisponibilità è al 20%. Ah! Devi darne 500 mg per avere un quinto. Pensa un po'. Cioè, pensa alla situazione. Cioè, allora, se facessi un'immunazione diversa, potresti anche diminuire la dose. Infatti, se guardi, a seconda del dosaggio, puoi anche avere una riduzione, 250-200 mg di ampicillina, per esempio. Per fare un esempio, eh. Allora, vedete, non devo avere questo. Io mi devo augurare che non abbia sbalzi di questo tipo, ma che abbia una costanza. Ecco perché dicevi, all'esempio della vitamina C. Mi dovresti dire, dammela quattro volte al giorno, ogni sei ore. Allora, forse, ho questa situazione. non ho questi sbalzi. Questa è sempre la stessa. Allora, guardate, il silicio, per esempio. Per fare un esempio, elemento importante, certo, confonente della matrice, mamma mia, ci sarebbe rivalutato negli ultimi anni in maniera incredibile. C'è chi lo usa in maniera, per esempio, il mio amico Bacci, che avete conosciuto spesso, il Piero Antonio Bacci, uno dei pochi che fa la cellulita a livello scientifico, mi dice, proprio l'altra volta a Bologna, eravamo insieme in questo convegno dell'Opigenetica, organizzato sempre ovviamente dalla EpiNutraShell e dall'Arnica, mi disse, uno scambio, te lo usi, il cellulita, mi dice, lo sai, ma lo sai che uso molto il silicio? Ci credono, io il silicio mi trovo benissimo, c'è anche un po' di cellulita dentro, quindi prima li faccio fare un ciclo, ma mi trovo meravigliosamente per la pulizia della matrice. E lui, essendo chirurgo vascolare e tratta le cellulite a livello scientifico, ci credo. Vedete, connettivo, gli osteoblasti, tutto, il componente principale è la famosa matrice extracellulare, che cos'è? Campo di battaglia della salubrità del tessuto. Esce un mese fa un articolo, i famosi articoli che escono, divertenti, scoperto un nuovo organo meraviglioso che ci protegge. La matrice extracellulare, che ha fatto medicina, abbiamo già smettato a ridere, scoperto un nuovo organo, cioè, va bene, lasciamolo stare, no? I giornalisti sciettivi devono essere fatti un corso di giornalismo, alcuni sono molto bravi, con il nuovo organo, noi si sapeva, cioè, diciamo pure che rivalutato un nuovo organo in senso più scientifico. Allora, vedete, ha tanta roba e il silicio lo garantisce, però c'è un problema e vi dico subito Valè, non voglio fare i nomi, ma a Firenze c'è una bella scuola d'osteoporosi, quindi senza fare nomi non c'è automaticamente. Avevamo provato, anni fa parlavano del silicio, molto importante, l'osteoporosi sono studi, però poi gli studi clinici sono andati male, ma guardate, io lo sospettavo, perché ho visto la formulazione e ho detto qui vanno in buca, semplicemente perché non c'erano biodisponibilità, perché alla fine hanno detto un momento, ma vedi il problema clinico, andrà a volte la clinica, se il clinico e lo sperimentale, lo scienziario non si uniscono insieme, il problema è che di ci vuole il silicio nanomicellare, finemente suddiviso, in modo che arrivi nei tessuti, e non è semplice, proprio perché per esempio gli ortosilicati non sono biodisponibili, non ne passa quasi niente, guardate che sono forme dei sassi, sono sassi, cioè il silicio è il sasso, l'ortosilicato origina l'ossido di silicio che sono i sassi, quindi per arrivare ce ne vuole, abito, ecco che allora il nanosilicio deve entrare dove? Negli interstizi della matrice extracellulare, è lì che funziona, il nanosilicio, e dopo, quindi ultracolloidale perché è finemente suddiviso e questo si fa capire a voi la famosa biodisponibilità tessutale in questo caso, eccolo qua, questo vi parlava il professor Baccio e diceva per me è straordinario, questo io lo uso c'è più del self-food perché per me, perché ognuno ha la sua attività, per me questo ho visto i risultati veramente che naturalmente riminalizzare, contrasta l'infiammazione, sostegno, per forza, cicatrizzante, vi potrei dire anche in fondo quello, dice ma come è possibile, uno vorrebbe da ridere, ma come il silicio che fa i sassi favorisce l'elasticità delle arterie, ma un momento, perché va a lavorare sulla matrice sotto l'endoteliale, e allora gli dà elasticità, perché pensata così non direbbe, il silicio è il componente delle pietre mi va a favorire, aumenta l'elasticità vascolare, ma perché lavora sempre sulla matrice, come si prende, io lo consiglio sempre in questa maniera, 15 circa anche due volte al giorno, poi valutate che caso per caso chiaramente, ogni caso ha la sua storia, però questa è, io lo mantengo sempre, consiglio sempre di tenerlo in bocca per favorire l'assorbimento che già inizia per la formulazione coloritale che c'è nella bocca, vitamina C, tutti la conosciamo, ora avvisatemi quando sono dieci, che ore sono? meno un quarto, fa cinque, dieci minuti, massimo, devo finire perché poi c'ho il treno, ecco, vedete anche questo, dice, eh, il discorso si diceva prima, c'è un blocco perché la vitamina C ha dei trasportatori a livello intestinale, sodio dipendenti, più di tanto non ne può entrare, c'è un massimo che li permettono, come la vitamina B12 a livello gastro, abbiamo un massimo, allora vedete, in questa maniera intraorale invece favorisci, qui molto bello, devo dire, quello che a vostro visto, avete conosciuto tutti, a lui Santoni, no? Vincenzo, l'avete visto, fa sempre delle bellissime lezioni, sulla vitamina C, lui veramente ci ha, ecco, si è dedicato tanto, anche sulle azioni un po', diciamo, sconosciute la vitamina C, quelle che non tutti, e lui dice sempre questo, dice, la maglia proprio larga del sublinguale ne permette una ottima assimilazione, ecco perché questa qui veramente, soprattutto per i soggetti che magari possono dire, ah da me mi dà fastidio, eccetera, eccetera, preferisco, io la consiglio vivamente, anche perché, guardate che per esempio una stagione invernale, prenderla questa subito, dal novembre, anche fino a ottobre, fa un bel lavoro, io la consiglierei sempre insieme ai micoterapici, per esempio, per fare una copertura, veramente, ho visto gente che non si è mai ammalata di influenza, proprio, e infine, il mio grandissimo amore, il radicale mentire, sapete, da anni combatto questa faccenda dell'omocisteina, Manuela ride, ormai c'è chi mi definisce anche il padre dell'omocisteina, come se l'avessi inventato io, magari, io sono un allievo del professor Meccelli, cioè lui sì che è il padre vero, no, il padre diciamo nel piccolo, nel senso, sto cercando di fare una battaglia con tanti colleghi disposti, e uscirà anche tra poco un libro, che sicuramente molti comprenderanno, perché non mi hanno scritto un capitolo di Spattini, Bevacqua e di Balimberti, che è proprio medicina funzionale mutabolica, dove mi hanno detto un anno e mezzo fa, a partire quasi due anni fa, il progetto, se ci vuole a scrivere un libro, mi hanno detto scrivici un capitolo sulla metilazione e soprattutto sull'importanza dell'omocisteina per fattori di rischio, ho detto guarda, dove aveva fatto 30 pagine e mi è venuto oltre 40, mi hanno detto cosa faccio, io la lasci pari pari, l'importante è che arrivi ai colleghi che dovranno leggere e speriamo tutti i medici di base il messaggio che arrivi. E allora vedete che in tutto questo che ci vorrebbe già due ore di... però qual è il problema? Dice, io indipendentemente da trovare l'omocisteina mi ha fatto il rischio, dice vabbè le do la B12, le do il folato, vero? Se le parlate tanto anche con Dino, tante belle discussioni, sì tutto a posto, la metilazione, sicuramente c'era Burgio, aveva parlato benissimo la metilazione, un maestro lui è, io mi sono stato occupando a livello epigenetico, ho fatto anche a Bologna un discorso della metilazione del DNA specifica che abbiamo anche interagito con Ernesto prima di Roma e dice, sai, prendi il folato, sistemo tutto, e no, carissimo, sì sì, l'omocisteina ha dimostrato che certo, la deve ridurre, guarda quanti studi importanti, però il paradosso, facevano gli studi, dicevano, ma come? Aumenta, io riduco l'omocisteina nel sangue e in prevenzione secondaria, attenti, non primaria, e secondaria, non ho poi una riduzione di infarti, a parte il fatto ci sarebbe da vedere se anche lo statine, perché quando c'è una placca io, bella, incastonata all'endotelia, voglio vedere se poi la scioglio completamente, il discorso potrebbe essere diverso, sei d'accordo? però poi hanno detto, un momento, dice, smontiamo l'omocisteina? Eh no, carini, perché meno male un ricercatore che gli ha detto a questi signori, carissimi, avete smontato l'omocisteina, voi siete scordati, ma dove l'avete dosata voi? Ma guardate, questa lavora nelle cellule endoteliali dentro, cioè è lì che va a lavorare e se il metilfolato non c'entra, con la metilcovalamina, le forme attive, non vedete nulla, cioè, e qual è il problema? Non la famosa? biodisponibilità intracellulare nei siti dove deve lavorare, cosa che molto spesso questi striatz non considerano, ecco perché lui invece, poi Circulation, un anno e mezzo dopo, gli ha detto, pubblica questo lavoro, che ti smentisci, vedi, nel endotelio umano si va a dosare, perché l'inside, vedete, lì c'è la 5, la metil tetraidrofolato riduttasi che deve lavorare, è lì che si gioca la battaglia, è inutile stare a guardare, ma non è sufficiente nemmeno il folato nel sangue, nemmeno la covalamina nel sangue, cioè, io ho fatto un dosaggio, una persona che aveva il folato normale, B12, basta nel sangue, ma non troppo, gli ho detto, mi fai la mutazione, la mutazione, in omozigosi, e ci aveva 35 di omocisteina, e un'anamnesi familiare positiva per trombosi, che si preoccupa, ma quello, a Roma, nonostante tutti, l'abbiamo sottovalutato, cioè, ma non ti preoccupare, no, ma cosa, e cosa vai a guardare, il colesterolo, cioè, ho capito il colesterolo, il colesterolo, l'ossida, anche l'omocisteina, non ci lo dimentichiamo, quindi, attenzione, insomma, quindi, non vi dico, è fuori, non vi dico che sia l'unico fattore, sbaglierei, l'ho scritto anche in una rassegna, su una rivista web, vi dico solo che è da considerare, io vorrei che ogni medico di base, che il quadriolo dicessero, c'è anche questa, preoccupiamoci, preoccupiamoci, e diamo il preparato giusto, e diamo il preparato giusto, e significa, eccolo là lo schema, una volta il professor Spartini, mi onorò, dicendomi, Mauro, ho un problema con un paziente, riesco a buttargli giù l'omocisteina, ha dei valori pazzeschi, oltre 200, gli disse, Massimo, sa cosa c'ha questo qui? Questo c'ha un blocco, della metiltra, di traidroforato e glutasi, unita alla cistatina sintetasi, quella della B6 dipendente, non fa nemmeno glutatione questa qui, cioè questo è veramente messo male, è infatti tutti i morti in famiglia, è appunto, cioè guarda, gli devi dare qui, B6 e B12 ad alto dosaggio, folico, e anche la trimetiglicina, la betaina, per saltare anche il circolo, di rimetilazione, e di transufurazione, ma se li dai in condizioni normali, classico paziente, dottore c'ho 25, benissimo, ecco qui il gioco, spray sublinguale, quanto? tre mesi di trattamento almeno, certo, se vai bene oltre, le cose cambiano, come tutte le cose, come diceva Giorgio, si sta parlando di nutraceutici, non di farmaci, di grossi, e uno dice, bene, con questa ce la faccio, non ce l'hai fatta, andiamo oltre, questa deve essere la correttezza del professionista, devo dire, finché la posso trattare, valuto, oltre devo ricorrere ad altre cose, ed eccolo qua, ma non c'ha solo questo, una volta uno mi disse, ma mi hai detto di prendere la B2, ma qui c'è un sacco di roba in più, certo, ma scusa, perché in una situazione del genere, non ti preoccupi dell'antiossidazione, non ti preoccupi del fatto che la stessa B2 partecipa al cirometilazione, tanto per dirne una collateralmente, cioè c'è tanta roba da poter considerare, cioè un soggetto che è iperomocisteinemico, non è un soggetto che solamente non ha uno stress ossidativo, molto spesso ce l'ha, perché la stessa omocisteina crea stress ossidativo, si autoossida, oltre a creare il famoso omocistein lattone, che va poi a incastonarsi nel macrofago, modificandolo e creando poi la disfunzione endoteliale. E infine il same, e concludo, perché nel ciclo, la S-anosimma in rionina, è il metilante migliore che esiste, è lui che metila tutto, e te ne accorgi solo dopo la laurea, dopo le specializzazioni, nessuno te l'aveva detto prima, dice ma come, eh no, Sebastiano è vero o no? No dimmi, gli amici con il sofarko, cioè quando mai ti dicono all'esame di biochimica, parlami della metilazione, parlami del same, invece esci fuori, lì tu dici, ciro di Krebs, la biosintesi, gli acidi grassi, poi ti sei accorto che erano collegati, ma non ti... Ah cavolo, guarda che bellezza, erano collegati, dopo però, che l'importante era superare quell'esame, no? a compartimenti stanchi, cioè tutto così, poi quando esci fuori tu dici, ah però, alla faccia, 70 reazioni, e che reazioni? Noradrenalina, acetilcolina, fosfolipidi, accidenti, tutte le poliammine, la biotina, la creatinina, la creatina, la creatina, del muscolo, cioè, per dirne solamente alcuni, cioè, come lo uso, l'epinefrina, cioè, quindi uno dice, ecco perché si dà, allora vedete, questo è in metile, eccolo là, eccolo, saccate, ed è lui che si perde poi, lui metila, e poi lo perdi, allora dice, aspetta un attimo, allora scusa, oltre a B6, B12, ci hai detto, ci vuole anche questo, ci vuole anche questo, certo, a prescindere, anche perché, ultimamente, poi uno parte con una cosa, negli anni si stimola, si autostimola, anche condividendo con i colleghi, cultura, e dice, per esempio, quando vedi Burgio a Roma, dissi, beh, bella, epigenetica del DNA, te stesso se ne hai parlato, ricordi, epigenetica del DNA, della metilazione, e ti accorgi, gli ultimi studi, fatti negli ultimi anni, che la metilazione di DNA, è un processo finissimo, regolato in maniera impressionante, ci sono dei canyon nel DNA, che come li metili, e ci sono delle proteine, le TAT, che li proteggono, sentite come siamo complicati, ma quella metilazione assicura che le TAT lavorino anche, ma se sei demetilato, non lavorano più, e si metila proprio quella zona canyon, attivandosi, e poi attivando anche purtroppo i geni, non reprimendo più, non reprimendo più, allora una studentessa mi disse, quante cose, era meglio se non sapevo nulla, perché più ne so, e più mi rendo conto, e tra poco morio, perché è paradossale, ma noi diciamo, ma siamo sempre in bilico noi, in bilico nel DNA, in bilico nella coagulazione, in bilico in tutto, hai ragione, siamo sempre in bilico, in bilico nella fertilità, siamo sempre in bilico, cioè purtroppo è questa la nostra natura, il calma è di qua o di là, cioè capito, però è bella sta cosa, perché cerchiamo di metterlo dalla parte giusta del DASSE, ed ecco quindi, che il SAM, vedete l'importante, certamente era conosciuto come SAMIR per le depressioni, ecco perché, ora si è capito anche, che sottovalutato anche quello, ma invece per le lieve e moderate depressioni funziona benissimo, ma non ha una gran biodisponibilità, pensate, deve prendere, deve prendere dai 200 a 400 milligrammi, e non vi viene passato, anche questo fa pensare, mentre invece qui, 25 gocce, proprio ieri sono arrivato a Milano, vado a trovare un mio amico fisico, mi dice, sono sempre nervoso, sono sempre così, ti scriverai tra poco, io bisogna, prendi il magnesio, vedete, devi prendere il SAME sublinguale, lui si ricordava, ma l'hai dato per anni fa, che per la mia mamma, esatto, vedrai che col SAME sublinguale, comincia con 5 gocce, caso tuo, ma pensate che se non volete date 25 gocce, sarebbe uguale a 75 milligrammi, che è quello che poi passa, da quei 200 a 300, come antidepressivo, quindi questa sarebbe la dose antidepressiva, ecco perché a volte ti scrivono, su web ti dicono, buongiorno, senta, io sono un soggetto, vorrei prendere il SAME, già come ti scrive uno dice, chiediamo qualche altra cosa, poi dice, signora scusi, che è in terapia lei? Sì, certo, prendo questo, questo, e questo, signora, mi fa parlare direttamente, con il suo psichiatra, o curante, perché molto spesso vai a consigliare, un momento, è calma, invece i soggetti, magari si scrivono in maniera molto informata, dicono, guardi, so che in famiglia, però non faccio nessun trattamento, ecco, attenzione, perché sapete che, chi prende il SAME per quel tipo di discorso, bisogna sempre sondarlo, per un tipo di discorso, però, guardate, realmente biodisponibili, quindi, vedete? Eccolo, quindi, quindi da 5 a 12 gocce, ogni volta al giorno, significa 25 gocce, 30 gocce, ah, brava, grazie, 58, benissimo, ce la faccio, benissimo, perché poi tra l'altro, prendendo appunto questa roba, faccio un'ottima prestazione, nonostante la valice, faccio un'ottima prestazione, ecco, quindi, la di conispirità, vedete, è vicina al 95%, quindi, anche questo, è una carrellata, mi ha detto Giorgio, vieni a faccio una carrellata finale, sulla biodisponibilità, è un argomento, mi interessa tantissimo, guardate, oggi ho cominciato la lezione di fitoterapia, ai colleghi della scuola anti-aging, gli ho detto, ricordate, quando date un fitoterapico, valutate, concentrazione, qualità, è stato seco, ma biodisponibilità, quando chiedete questo, di quelli venivano a dirvi, dottoressa, ho un glutazione meraviglioso, ce lo so io, e voi dite, come lo dai? Come lo do? Un per bocca? Se non passa, cioè, come passa? Oppure, ho un risparmettato, fantastico, l'estratto, ma se ne passavano 2.000 grammi, cioè, guardate, per i dosaggi che c'erano sull'istudio, deve avere 7 litri di vino, 7 litri, poi ne ho scoperto, ne bastava molto meno, perché agiva su canale del calcio, meno male, cioè, poi la prima scoperta è stata, quindi, quando gli chiedete la biodisponibilità, chiedete esattamente questo, perché questo fa la qualità del prodotto, cioè, ce ne sono mille in giro, ora hanno fatto anche un formulario, tra l'altro c'è anche i vostri prodotti, tutti, e lì, in teoria, dovrebbe indicare il professionista a consigliare in maniera, ma non parla sempre di biodisponibilità, eh, grazie. Grazie.